Nasce IEM Impresa, lo sportello al servizio delle nuove attività. Fare impresa rappresenta uno strumento di incontro tra figure professionali allo scopo di definire risorse, capacità, competenze degli aspiranti imprenditori grazie anche allo snellimento delle pratiche utili all'avviamento e alla gestione della nuova attività. La presentazione è questa mattina nella sede di Ascom Conf Commercio alla presenza di Senofonte Dimitri, presidente dei giovani imprenditori di Conf Commercio. È un sportello che soprattutto si prefigge l'orientamento ai giovani che vogliono fare impresa. Nasce dalle numerose istanze che sono arrivate sia tramite mail al gruppo Giovani Conf Commercio che sulla pagina Facebook. L'esigenza non è solo quella di puntare alle grosse start-up di derivazione tecnologica ma anche l'esigenza di un semplice ragazzo di 22 anni che ha esigenza di aprire un bar o un'attività commerciale piuttosto che una merceria. Noi puntiamo su quello, puntiamo a finanziare le idee semplici e a far districare i giovani nel meandro della giungla della burocrazia e del deserto dell'accesso a credito. Lo sportello nasce da un accordo di partenariato con le associazioni di categoria con la banca di credito cooperativo e il sostegno della Camera di Commercio di Napoli. Aderiamo con entusiasmo a questa pregevole iniziativa. Queste le parole del presidente della BCC di Napoli, Amedeo Manzo. È la banca della città, la banca della gente e prevalentemente anche la banca soprattutto dell'imprenditoria femminile e soprattutto dei giovani. Quindi oggi è un'iniziativa valevole nata dallo studio congiunto del gruppo giovani con la nostra banca qualche mese fa, nella quale producemmo un'idea da sviluppare e che oggi muove i primi passi. Uno sportello con l'assistenza di carattere generale, organizzativo, ma soprattutto anche finanziario per le start-up, per le start-up dei giovani. La nostra banca metterà a disposizione il know-how, l'organizzazione e i finanziamenti per le giovani imprese garantite da Medio Credito Centrale allo scopo di finanziare e portare avanti e fare in modo che i nostri giovani possano trattenersi sul nostro territorio. Allo scopo di fare in modo che Napoli, la grande Napoli, tutta la città metropolitana possa naturalmente veder fiorire tantissime imprese. Un'iniziativa soprattutto per i giovani, soprattutto per le nuove generazioni. Ne è convinta l'assessore ai giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente. Più del 40% delle imprese che i dati Union Camera ci danno della Regione Campania sono fatte da giovani. Questo vuol dire che sempre di più si va affermando un modello di autoimprenditorialità dove i ragazzi napoletani, non solo, ma dell'intera Regione, mettono insieme tutte quelle che sono le loro competenze professionali in un progetto di impresa, spesso individuale, ma soprattutto legato al territorio. Da questi dati quindi c'è chiaro il lavoro da fare. Dobbiamo accorciare le distanze fra la burocrazia e le idee imprenditoriali dei ragazzi. Ascom ConfCommercio sarà vicino soprattutto alle nuove start-up e alle piccole e medie imprese che avranno al loro capo appunto dei giovani. Queste le parole di Pietro Russo, presidente di ConfCommercio Napoli. Chi deve fare questa crescita? Naturalmente i giovani, quindi noi abbiamo questa fortuna di avere un'associazione di giovani ben rappresentata da Senofonte Dimitri con tutte le altre naturalmente situazioni all'atere. Quindi è un'occasione per cercare di contribuire alla crescita culturale di questa città. Grazie. Grazie.